Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino e l'episodio di oggi di Non puoi non saperlo è sugli accordi di Bretton Woods. Ecco, vengono citati abbastanza spesso da economisti e politici ogni volta che si parla di cambio fisso, cambio variabile, si sentono queste parole gold exchange standard, gold standard, eccetera, quindi pensavo fosse interessante capirne un po' di più e come al solito ho deciso di condividere queste informazioni con voi. Ecco, il problema principale che aveva trasformato la crisi economica e finanziaria del 29 in grande depressione fu la reazione dei governi a questa crisi, che era quindi una chiusura delle economie e un tentativo di aumentare le esportazioni per ridurre il deficit nella bilancia dei pagamenti tramite una svalutazione della moneta. Ecco, questa politica nel lungo periodo portò invece ad una caduta della domanda nazionale, altissimi tassi di disoccupazione, scontento della popolazione, povertà diffusa e in generale a un declino del commercio mondiale. Ecco, si era a quel punto a ridosso della fine della seconda guerra mondiale, quindi i 44 paesi alleati decisero di incontrarsi per cercare di ripensare un sistema monetario e finanziario mondiale di lì che promuovesse il libero scambio al fine di evitare questo tipo di problematiche. Ci furono 744 delegati di 44 paesi e durò appunto tre settimane. A Bretton Woods, una cittadina nel New Hampshire, negli Stati Uniti. Bene, quali furono gli accordi che vennero fuori da questa conferenza. Fu un compromesso tra la linea di White, il negoziatore americano, e la linea di Keynes, famosissimo economista britannico del quale abbiamo parlato in uno degli episodi di Non puoi non saperlo. Compromesso ma più spostato verso le posizioni americane. La cosa principale che si stabilì fu appunto il gold exchange standard, quindi le valute avevano un cambio fisso ed erano tutte agganciate al dollaro, del quale si garantiva la convertibilità in oro a 35 dollari l'oncia. Ecco, erano le banche centrali degli Stati, non gli US ovviamente, che dovevano garantire questo cambio stabile con operazioni di libero mercato ogni qualvolta il tasso si scostava. Per supervisionare che questi accordi funzionassero e le regole venissero rispettate, vennero create alcune istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale che appunto sopravvisse poi alla fine degli accordi. Ecco, Fondo Monetario Internazionale che poteva concedere prestiti agli Stati in disavanzo, quindi agli Stati che esportavano molto meno di quanto non importassero e allo stesso tempo, solitamente quando uno Stato era in crisi strutturale, potevano autorizzare una svalutazione competitiva della moneta di quello Stato. Bene, il sistema funzionò abbastanza bene fino agli inizi degli anni Sottanta per promuovere libero scambio, libero mercato in condizioni di quasi parità diciamo tra tutti gli Stati. Fu l'impegno importante di risorse degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam che portò appunto alla fine di questi accordi, perché gli Stati Uniti avevano bisogno di denaro per appunto finanziare la guerra del Vietnam, aumentarono il debito pubblico con emissione di dollari e questo creò nervosismo negli Stati che avevano sottoscritto gli accordi di Bretton Woods che chiesero sempre di più la conversione dei loro dollari in oro e si stima che gli Stati Uniti pagarono, acquistarono dollari per oltre 12.000 tonnellate di oro. Ecco, le riserve quindi degli Stati Uniti si stavano sottigliando in maniera preoccupante e quindi nell'agosto del 71 a Camp David Nixon annunciò la cessazione della convertibilità in oro dell'oro. Nel dicembre del 71 il G10, quindi il gruppo dei paesi più influenti, più industrializzati del mondo del quale faceva parte anche l'Italia, si riunì sempre a Camp David e firmarono gli Smithsonian Agreement che posero fine al sistema del Gold Exchange Standard a cambio fisso di Bretton Woods. Si stabilì un sistema di cambi flessibili e una tassa del 10% per l'importazione di beni negli Stati Uniti. Bene, tutto qui, breve e spero interessante, bene, tutto qui, alla prossima, ciao a tutti.